è anche veloce è veloce è velocina bella l'ambiente è molto bello al barco adesso non vorrei cadere subito a prima curva sarà più vicino che più tu fai l'autostrada arrivi a Stavona prendi per Genova perché noi facciamo da Alessandria attraverso a 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